Sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti nella provincia di Catanzaro, una vasta operazione dei carabinieri ha portato all'esecuzione di 13 misure cautelari tra il capoluogo e i comuni di Borgia, Valle Fiorita, nel Catanzarese, Rosarno, Reggio Calabria. In carcere sono finite 6 persone, 4 sono state poste domiciliari, altre 3 sono state sottoposte all'obbligo di firma. L'attività condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catanzaro ha permesso di smantellare un'associazione dedita all'acquisto di grandi quantità di cocaina, ascice e marijuana dall'area di Gioia Tauro e Vibo Valencia, da rivendere al dettaglio tra il capoluogo calabrese e i comuni della fascia ionica della provincia catanzarese. Il consumo di marijuana è assolutamente dilagante, il dato preoccupante che verrà peraltro ampiamente discusso a livello di conaghe nazionali e il consumo di droghe leggere da parte anche di minorenni. Quindi abbiamo ragione di ritenere che il reticolo di pusher arrivi sino alle scuole. E quindi per questo è importante il contrasto e per questo è importante questa indagine che ribadisco è autosufficiente nel senso che spiega come in alcuni casi lo stupefacente venga prodotto nelle serre ribonesi e poi importato fino a Catanzaro dove ci sono coloro i quali organizzano la rete di pusher che arriva ovunque. Questa è un'indagine che ha interessato come procura distrettuale di Catanzaro, Carabinieri e Guardi di Finanza, tutta la provincia di Catanzaro nella vendita della cocaina che l'organizzazione comprava in provincia di Vibbo e sulla piana di Gioia Tauro. Per noi è un'indagine importante perché stiamo, più volte stiamo facendo delle operazioni con decine e decine di arresti su questo territorio, sulla provincia di Catanzaro. Quindi c'è una grande accelerazione da parte della procura distruttuale di Catanzaro e delle forze dell'ordine per cercare se vogliamo anche di recuperare un po' di terreno e di tempo. Queste operazioni sono importanti, non sono casuali perché sono il risultato del rafforzamento sul campo da parte delle forze dell'ordine e anche della procura di Catanzaro dove i sostituti, gli aggiunti stanno sostanzialmente impegnandosi ancora di più rispetto a prima e stiamo avendo un target qualitativo e probatorio di altissimo livello.